Nell'ottica della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, case della salute e quant'altro, e seguendo un po' quella che è la problematica dell'emergenza tra virgolette estate, è stato aperto un ambulatorio di medicina generale nel territorio del decimo municipio dell'Asle Roma D, ostia per capirci, fornisce assistenza ai cittadini il sabato e la domenica, festivi e prefestivi, quindi funzionerà anche a ferragosto per capirci il 14 agosto, con delle prestazioni che normalmente vengono erogate dal medico di medicina generale nel proprio studio, in quali possono essere dall'infezione delle vie aeree, al dolore lombare, al problema tipo cistite e quant'altro, alla medicazione, al cambio di catetere per esempio, alla terapia iniettiva, la certificazione per malattia. Ecco è importante dire che non è un servizio di ripetizione di ricette, che quelle vengono demandate al proprio medico di famiglia durante la settimana, ma è un servizio di ricettazione urgente. Al servizio possono accedere tutti i cittadini residenti nel territorio del decimo municipio e possono accedere anche chi viene a villeggiare o semplicemente al mare per il fine settimana il sabato e la domenica. La novità, se vogliamo, è che la gestione di questo ambulatorio è fatta dai medici di medicina generale del territorio della Roma D. A presto! A presto! Grazie a tutti.